Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia. E Antonio Conte in persona, con una presa di posizione affidata ai social, a chiudere le porte a un suo possibile arrivo a Napoli in caso di esonero di Rudy Garcia. Il tecnico è stato in contatto con il club azzurro e per ora era stato indicato come la scelta più probabile del presidente dell'Aurentis, ma alla fine ha deciso di confermare la scelta di prendersi una stagione di relax dopo aver salutato il Tottenham. Saltata, almeno per ora la pista Conte, per in Napoli restano aperte due strade, tenere Garcia o scegliere un altro tecnico di qualità sapendo che la scelta è sempre difficile a stagione in corso. La lista è lunga tra i papabili, torna di moda Christopher Galtieri, il tecnico già ipotizzato in estate per sostituire Spalletti reduce dal titolo con il Paris Saint-Germain, ma poi rimasto senza panchina dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League. Intanto Garcia al suo posto, tornato a dirigere l'allenamento a Castelvolturno senza i nazionali convocati dalle rispettive selezioni. Insomma, resta tutto in bilico, si deciderà nelle prossime ore.